Ciao sono Stefano e oggi qui da Spazio Renovo vi parlo dell'ultimo nato nella famiglia ThinkPad X1 ovvero ThinkPad X1 Titanium Yoga che è anche il ThinkPad più sottile di sempre con solo 11,5 mm di spessore. Questo risultato è ancora più incredibile se pensiamo che questo notebook è un convertibile con schermo touch che ruota a 360 gradi. In particolare oggi volevo parlarvi di una tecnologia molto interessante di questo prodotto che lo rende più sicuro e ne semplifica anche l'interazione fra l'utente e il PC. Tramite ad un radar che funziona in abbinamento alla webcam ad Infrarossi e Windows Hello il computer è in grado di riconoscere la presenza dell'utente e bloccare lo schermo quando l'utente si allontana dal PC per poi sbloccarlo in automatico senza nessuna interazione, senza bisogno di toccare nessun tasto o muovere il mouse riconoscendo ovviamente il volto dell'utente corretto. Questo permette anche di evitare che il PC si blocchi quando non vogliamo quando per esempio stiamo qualche minuto davanti allo schermo senza toccare tastiere mouse e allo stesso tempo permette di ottimizzare i consumi della batteria perché il PC quando l'utente si allontana va direttamente in modern standby abbassando al massimo i consumi e quindi andando a ottimizzare appunto il consumo della batteria in relazione all'effettivo utilizzo del prodotto. Questa tecnologia è disponibile anche su altri modelli della serie X1 in base al pannello montato e è possibile configurarla navigando nelle funzioni di Lenovo Vantage che è un'applicazione che è installata su tutti i nostri ThinkPad. Grazie e ci vediamo in spazio renovo. Grazie a tutti.